A Futani una frattura ha sgretolato la maggioranza del sindaco uscente Aniello Caputo che non si presenterà compatta alla prossima tornata elettorale. Il primo cittadino attualmente sarebbe addirittura fuori dalle due liste che si contenderanno la corsa alle urne. Una delle due compagini sarà guidata dall'avvocato Dario Trivelli al suo esordio politico. L'altra lista è nata da una costola dissidente dell'attuale amministrazione e a guidarla sarà il presidente dell'attuale consiglio comunale Filippo Marco Tambasco, tecnico radiologo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A Rofrano il sindaco uscente Cammarano va a caccia della riconferma. Il primo cittadino nei mesi scorsi aveva annunciato la volontà di non ricandidarsi salvo poi fare dietro front. In caso di vittoria sarebbe al suo terzo mandato. Dall'altra parte c'è Giuseppe Viterale che ha vinto il ballottaggio interno con il figlio Toni. Entrambi hanno già rivestito la carica di sindaco. Ora il Viterale Senior proverà a battere Cammarano con il quale ha condiviso un periodo in maggioranza. Le strade però si sono poi divise. A Montano Antiglia per le ormai imminenti elezioni sembra che ci sia un'unica lista in gioco e potrebbe essere il sindaco uscente Luciano Trivelli a capeggiarla. Nelle scorse ore si era diffusa in paese l'ipotesi di una candidatura dell'ex sindaco Gerardo Del Gaudio che negli scorsi giorni avrebbe fatto degli incontri per allestire una squadra pronta a competere per la fascia di colore. È arrivata però la secca smentita di Del Gaudio il quale ha negato ogni coinvolgimento diretto nella prossima corsa elettorale. Sarà dunque il solo Trivelli a correre per questa tornata elettorale ma verrà valutata la possibilità di costituire una lista satellite per evitare difficoltà relative al quorum. Lo aveva annunciato negli scorsi giorni e ne ha dato conferma. Simone Valiante sarà il candidato sindaco a Cuccaro-Vetere. In questi giorni sarebbe impegnato a ricondurre tutte le anime politiche di Cuccaro sotto la sua lista. C'è grande fiducia sul successo di questa operazione. Se dovesse essere non ci sarebbe bisogno nemmeno di formare la cosiddetta lista satellite in quanto il quorum verrebbe abbondantemente raggiunto.